Buonasera Artenio! Ciao! Ciao! Ciao Artenio! Ciao! Oggi è venerdì, vieni a vedere lo spettacolo! No, vado a casa, sono... Anche venerdì, Dio cane! Figa nastro! Dio porco! Vabbè, vabbè, andiamo! L'ultima volta sono arrivati in ritardo, ne ho visto solo la metà! Eh sì, eh! Gli orari vanno rispettati! Eccolo arriva! Com'è bello! Com'è bello! È impressionante! L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello! Però l'altra volta c'erano più vagoni! Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh!